Ehi la ragazzi qui è Panino e la spina che vi parla e benvenuti in questo nuovissimo video Questo ragazzi sarà un video particolare no? Cioè sarà l'inizio di un qualcosa Sì perché ragazzi ho intenzione di portare anche qui su questo canale dei video gameplay Però attenzione Non sono i classici gameplay che vedete in giro no? Dove ci sono oggi facciamo una partita qui vediamo come fare questo qui no? Cioè no sarà tipo che io metto a giocare ma sarà una sorta di gameplay reaction Cioè qualcosa di diverso Qualcosa vabbè magari l'hanno fatto anche altri non lo so Però cioè vabbè starete voi a vedere che cosa voglio fare perché vedete non so nemmeno come spiegarlo Però ragazzi prima di cominciare chiedo a voi quale gioco vorreste che io portassi no? Io porto generalmente porterò giochi di cellulare Quelli su Android nulla di che Ma però consigliatemi anche voi E se vi piace questo video e questa serie lasciate un bel mi piace e niente cominciamo Oggi ragazzi giocheremo Toilet Time Mi sono messo qua così qui ci sarà la schermata del gioco Faccio partire il gioco Ok Ce l'ho qua sul cellulare C'è qua Sta caricando Aspettiamo qualche secondo Vabbè ecco qua è partito Toilet Time C'è questa bellissima schermata di un bel gabinetto Con scritto play Ma noi playiamo subito Cioè questo gioco consiste qua da fare dei mini giochi Da risolvere in pochi secondi Vediamo qua il primo Start Ok giustiamo l'acqua Ecco qua Ah ah se no il vecchietto si congela Ah ah bravo adesso il vecchietto si pulerà bello Pulito Ah carteggienica Scendiamo Ok Ma questo era facile Sì un punto Ah cos'è Scarafaggio Però c'è il dito pulito Ah ah Dai 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 su che mi sta venendo la carica Terzo livello Cos'è qua Ah Gabinetto vuoto Ah vabbè Questo è stato facile Ah lavarsi le mani Mani belle pulite Magari si lavassero così le mani Io ci perdo tanto tempo Ah allora Maschio qua femmina femmina maschio qua Sì E va Sesto livello Giustare Qua Ah Appena in tempo Che poi cambia no Non è lo stesso quando devo giustare Come troppo Cioè Scendiamo Scendiamo E dai Muovi Ah Fatto Vai Squish Vai Una E due Buon lavoro Eh eh Lo so Lo so Lo so Livello nove Gabinetto vuoto Vai Se così vado in bagno Non è che vado in bagno dove c'è il gabinetto Ah ah Già fatto Allora Puliamo le mani Dai 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 Ah Ma che questo qua Di pulire le mani Sembra facile Ma è difficile Allora Maschio qua Donna Donna Maschio qua Livello 12 E vai Va tardici Squish No E questo qua è un gioco che va bene No Sapete Aspettate E vai Va bene quando siete sul gabinetto No Che non dovete che fare E scaricatevi sto gioco Te lo consiglio No no Io odio questi qua Di lavarsi le mani Eh Ecco qua Ah E' difficile Perché dovete proprio Prendere il punto giusto Sennò non ve le lava Oddio Maschio qua Maschio qua Maschio qua Dai Cazzo No Un vecchio congelato No Ma si può perdere così Ah Almeno questo l'ho fatto Già 7 Ah Mi sto riprendendo Peccato che non posso riprendere le vite Uff Quello voto Vai E anche quello voto diventa difficile Perché Peccambia Oh no No Ok Ho perso Ah Ce l'ho fatta Sono stato fortato perché erano tutti allineati Dai Sì ma cosa pretendono che abbia il dito supersonico Ah che cacchio Ah eh Ho sbloccato qualcosa Nuovi livelli Vai Eh vabbè I nuovi livelli però Ve li faccio vedere la prossima volta Ah Così Niente Così vediamo così nuove Ma se ve li faccio vedere adesso Che gusto c'è E niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E niente Salutatemi Il vostro gioco sul cellulare preferito Va E io come sempre Vi auguro una buona giornata Una buona serata E una buona notte Ciao a tutti